Ma guarda che bello l'omino E ora fa un po' riparci Impressionante L'omino che fa così poi Erano i carrelli quelli a mano per muoversi in linea Ma è una cosa un po' particolare non l'avevo ancora mai visto nelle mostre La vita è la meno frenetica Ma che c'ha di batteria? 29 Non caricateli La vita è l'orchestrina sopra che suona Sottotutto quello lì È molto originale È in continuo allargamento Adesso entrerà questo Però con un gemello Perché questo arriva a 10 cm C'è un gemello pronto per fare scendere Questo che scala è? G 1,22,5 in realtà Noi chiamiamo G ma G vuol dire troppe cose Però G ci capiamo E l'alimentazione è quant'è? 45 mm di polpo Quanto è l'alimentazione? Sempre 12? Ah, di ciò È un po' più alta Questo qua è un normalissimo pendolo Metti il binario con i diodi Dove vuoi che si fermi C'è uno qua e uno là in fondo Bello il pendolo perché sta in pochissimo spazio A parte questo pancione Questi sono 20 cm Quindi uno in casa Allora a casa ce l'ho appeso Certo, ha la parente Sì Ma questa è una scala più piccola? Questa è la gigola? Uguale, uguale Tutto giusto Grazie a tutti.